Musica Apriamo la pagina sportiva con il calcio e con la preparazione della Lucchese che ormai è giunta quasi alla rifinitura. Sabato nel tardo pomeriggio arriva l'Aquila. Oggi i rossoneri si sono allenati all'Acquedotto. Ultima del 2015 con vista su quota 20 punti che significherebbe agganciare l'Aquila, avversario diretto al Porta Elisa sabato nel tardo pomeriggio e chissà magari anche una tra Prato e Tutto Cuoio, forse tutte e due. La Lucchese che giovedì pomeriggio si è allenata all'Acquedotto è ormai quasi alla rifinitura in vista della sfida alla compagina abruzzese, reduce tra l'altro dal successo di misura sul Rimini. Gara delicata perché i rosso-bluo aquilani costituiscono un buon complesso ma i rossoneri vogliono fare bottino pieno, magari cercando di emulare il rotondo 3-1 col quale si imposero lo scorso 28 febbraio con tripletta di Francesco Forte. Da allora sono trascorsi solo dieci mesi ma la Lucchese è profondamente cambiata. Uno dei pochi superstiti di quella squadra è l'esperto mediano Nicola Mingazzini, uno che di battaglia ne ha combattute e vissute tante. Il Minga rispetta ma non teme l'Aquila, anzi. È una squadra di tutte quelle che abbiamo incontrato, forse è quella che esprime un calcio migliore per quello che abbiamo visto, per come l'abbiamo analizzata finora. Quindi non sarà una partita facile, non è una classica squadra di Lega Pro che gioca più che altro sugli avversari, è una squadra con una propria identità precisa, quindi non sarà facile. Noi siamo molto convinti in questo momento di stare molto bene, quindi speriamo di riuscire a dare un po' di continuità ai risultati, quello che magari ci è mancato. Capitolo formazione che fosse per Lopez sarebbe già bello e deciso. Il 48enne tecnico romano deve invece fare i conti con gli acciacchi di Benvenga, botta ad un gluteo nella partitella in famiglia di mercoledì. In realtà il forte laterale destro dovrebbe stringere i denti e rispondere presente. Per ogni evenienza sono già pronte le alternative che rispondono ai nomi di Melio o Calcagni. Per il resto conferma della stessa squadra che tanto bene ha fatto nelle ultime giornate, anche se Vita ma soprattutto Pozzebon sono parsi in forma e scalpitanti. La decisione definitiva sarà presa da Lopez solo dopo la rifinitura di venerdì. La notizia di calciomercato legata al campionato di promozione. Il Castelnuovo ha preso dal Givi Borgo Anthony Alfredini, classe 1996. Il giovane attaccante arriva con la formula del prestito fino a giugno e sarà a disposizione di mister Francesconi già per la gara interna di domenica prossima contro l'Unigiana, dove nel Castelnuovo rientrerà anche l'esperto centravanti Gabriele Scandurra. Sempre il Castelnuovo ha ceduto invece l'attaccante Gary Alcoreglia con la formula del prestito. Il basket arriva dopo un supplementare la quinta vittoria consecutiva, 64 a 56, della polisportiva Capannori, che chiude così l'anno in bellezza, proseguendo il proprio cammino verso il vertice. Da segnalare per la squadra di Coach Petrini, 14 punti di Savelli, 13 di Biagioni e 12 di Guetti. Parliamo del campionato di basket maschile di prima divisione. Parliamo di biathlon. Tempo di biathlon per il gruppo sportivo marciatori Barga, soprattutto grazie alla coppia Diego Strina-Daniele Balducci, che si è ben messa in evidenza nel Challenge Media Valle di biathlon, secondo posto a Castelvecchio-Pascoli, ripetuto poi dal secondo posto assoluto anche nel biathlon di Natale a Filecchio, nella categoria mista. Sempre per quanto riguarda il gruppo sportivo marciatori Barga, Erika Tonieri con Oriano Gigli, si sono messi in bella evidenza, così come Stefania Giovannetti con Federico Ferrari. Siamo ai motori, manca solo la conferma ufficiale, ma pare davvero che il matrimonio sportivo tra Paolo Andreucci e Anna Andreussi e la Peugeot Italia proseguirà anche nel 2016. Pare infatti che nove volte i campioni italiani abbiano firmato un nuovo contratto con la mitica Casa del Leone. L'accordo prevederebbe la partecipazione naturalmente a tutto il campionato italiano e a due gare extra. Le due corse al di fuori del campionato italiano saranno probabilmente il Monza Rally Show ed una prova del campionato del mondo. Do novità anche sulla livrea di Ucci Ucci che dovrebbe essere completamente rinnovato. Una nuova sfida per puntare al decimo titolo italiano. E sempre in tema di motori, siamo ormai si può dire alla vigilia del 24esimo rally del ciocchetto Memorial Perrisinot che si correrà sabato e domenica sulle strade del Ciocco. Si scalda l'ambiente del caso di dire, parafrasando il titolo del nostro appuntamento quindicinale, che al ciocco rombano i motori. Alla fine sono 64 gli equipaggi iscritti alla corsa prenatalizia che di fatto, come accade ormai dal lontano 1992, chiude la lunga stagione motoristica, in particolare dei rally. Una buona partecipazione, anche se inferiore allo scorso anno e probabilmente contaminata da qualche grave incidente, anche mortale, capitato nell'ultimo periodo. Dopo le verifiche tecniche sportive del pomeriggio, sabato sera scatterà la gara vera e propria con la rinnovata e raddoppiata prova speciale notturna di quasi 4 km, intitolata Maurizio Iccio Perrisinot, l'indimenticabile inventore del ciocchetto. Una prova che servirà a definire la prima classifica, una graduatoria che però, secondo tradizione, si sfoltirà nella giornata di domenica quando si disputeranno ben 12 prove speciali. Al mattino, college e laghetto. Al pomeriggio, stadio e noi tv, ciascuna da ripetersi tre volte, alternate nella parte alta e bassa della tenuta. Contrariamente a quante accadute in edizioni memorabili, vedi 2009-2010, le previsioni meteo parlano di tempo accettabile, temperatura mite, che dovrebbe favorire l'afflusso del grande pubblico sulle rampe del colle di San Quirico. Il grande favorito della corsa è senza dubbio Gabriele Ciavarella, che disporà della Ford Fiesta WRC. Proveranno a contrastare il pilota massese, Rudy Michelini, Emanuele Dati e Paolo Ciuffi, tanto per citare alcuni dei protagonisti più acclamati del ciocchetto. Al via anche il rampante Luca Panzani con la Renault Twingo R2. In gara anche tanti equipaggi locali, una corsa del resto che riserva e nasconde insidie dietro ogni angolo. Lo scorso anno vinse hashtag NC3 al secolo Nicola Caldani, che quest'anno non sarà al via, davanti a Ciuffi e Michelini. Noi TV seguirà la corsa per riproporve nelle fasi salienti con immagini, curiosità e interviste in una puntata speciale di Rombo di Motori, in onda mercoledì 23 dicembre alle ore 23. Ancora Motori, Rally e Ciocco sono due parole per me legate in modo indissolubile. A dirlo fu Guelfo Marcucci, patron e inventore dei Rally del Ciocco e della Valle del Sergio, scomparso pochi giorni fa all'età di 87 anni. Organisational Sport Events vuole ricordare così il dottor Guelfo la sua passione e le sue intuizioni. Fu proprio nel suo rally il Ciocco che il futuro nove volte campione italiano Paolo Andreucci scese in campo, ma potremmo dire scese sulla strada per la prima volta. Quarto posto nella classifica di società con 12 medaglie conquistate. Il Versilia Nuoto si è messo in evidenza nel corso dell'undicesima edizione del trofeo Città di Massarosa grazie ad una superlativa prova corale di tutta la squadra guidata dal presidente Gian Battista Crisci. Su tutti spicca la doppietta dell'inossidabile Osvaldo Bertuccelli. che nella categoria M80 si è giudicato un doppio oro nei 50 Farfalla, nei 50 Misti. Primi posti però anche per Sara Parenti, Alberto De Martino, nei 50 Stile Libero, di Alexander Pisoni, nei 100 Stile Libero, Stefano Marcinnone, nei 50 Dorso, e Massimiliano Massei, sempre nei 50 Dorso. Ricordiamo che domenica prossima, 20 dicembre, a Lucca, si torna in Vasca per la decima edizione del trofeo Mussi Lombardi-Femiano dedicato ai Master. Grande risultato della ritmica Monte Carlo a Campagna Lupia, in provincia di Venezia, nel campionato nazionale di ginnastica ritmica. Notevole soddisfazione per le due squadre montecarlesi, seguite dalla tecnico federale Tatiana Grezzeva, che hanno ottenuto un terzo posto nella categoria Silver, la squadra composta da Martina Ceragioli, Fabiola Muslia, Sara Takaci e Sabrina Tedeschi, e un quinto posto nella categoria Joy, con Ashley Giuffrida, Giulia Vitillo e Melissa Zeffi. Il prossimo appuntamento per la squadra Silver sarà a Torino, nel fine settimana, in occasione del trofeo internazionale Stelle di Natale, che vedrà impegnate ginnaste provenienti da tutta Europa. E con la ginnastica ritmica, direi con la bellezza della ginnastica ritmica, si chiude anche la pagina sportiva di questa sera. Dopo una breve pausa, torniamo con la terza e l'ultima parte del TG Noi.